Shalom fratelli e sorelle in Cristo! Nel mondo in cui viviamo c'è bisogno di luce. Ci sono molte zone tenebrose e quelle zone sono abitate. Le persone che ci vivono si sono abituate alle tenebre, di conseguenza ignorano i pericoli e ignorano come si vivrebbe nella luce. Ho utilizzato questa metafora per ricordarci, per richiamarci all'attenzione e ricordare che Gesù, luce del mondo, è venuto a portare luce in questo mondo perché chiunque crede in Lui non rimanga nelle tenebre. Se ogni cattolico pensasse ai propri cari ci sarebbe meno evangelizzazione da fare, ci sarebbero meno persone da avvicinare a Gesù, meno persone da restituire alla luce. Forse anche noi siamo responsabili di persone che vivono nelle tenebre. Ecco, allora dobbiamo pensare cosa possiamo ancora fare per i nostri cari, per i nostri amici, per restituirli alla luce. Preghiamo. Gesù attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore, e a Maria tua è nostra madre. Amen.